E' attesa per domani la visita del ministro dei trasporti Danilo Toninelli al viadotto Puleto lungo la E45, riaperto a quattro settimane esatte di distanza dal sequestro dello scorso 16 gennaio per rischio collasso. Il ministro arriverà alle 11 ed incontrerà i sei sindaci interessati dall'emergenza, due della Toscana, quello di Sansepolcro e quello di Pieve e Santo Stefano, due dell'Emilia Romagna ed infine due dell'Umbria, poi andrà a visitare il cantiere sul ponte. La riapertura dell'E45, come ormai noto, è limitata solo al traffico leggero, 35 quintali il massimo ed unicamente lungo le due corsie centrali, ma ha sbloccato comunque, seppur parzialmente, una paralisi totale dell'arteria che durava da ben 28 giorni. Tra le prescrizioni disposte dalla procura d'ANAS anche il limite di velocità 50 km orari, controllato con autovelox e l'installazione di sensori che dovranno rilevare oscillazioni anomali sul ponte. Ovviamente ancora ad oggi permane il problema per i mezzi pesanti. Su questo c'è un dialogo forte, un pressing rispetto a ANAS perché acceleri in modo rapidissimo ai lavori, alla sistemazione dei baggioli, alla sistemazione dei gardareili. Sappiamo che già stanno approntando e non ci hanno dato dei tempi. Si parla di alcune settimane, però non si sa quante siano. Questa è la condizione. Fermo restando, poi c'è aperto il tavolo sull'emergenza. La regione ci ha garantito che farà la sua parte, stiamo facendo alcune considerazioni e valutazioni di danni. C'è un dialogo aperto e siamo ottimisti su questo. Rispetto alla regione che anticipa quello che dovrebbe essere ristornato poi dall'emergenza nazionale. Chiediamo fortemente e l'abbiamo chiesto al Ministro Di Maio un incontro per avere delle provvidenze circa l'emergenza nazionale per capire quello che può essere il ristoro per le nostre aziende, per i danni subiti.